Buon sabato 13 gennaio. Leggo un breve commento, un'introduzione al Vangelo di oggi che trovo nel sito del monastero di Bovose. Il titolo è interessantissimo, uno sguardo che fa risorgere, lo sguardo di Gesù, lo sguardo della sua grazia che ci invita a seguirlo. Il Vangelo di oggi ci narra di Gesù che dopo la guarigione del paralitico uscì di nuovo verso il mare di Galilea, si mise di nuovo in cammino per incontrare la folla che veniva a lui ed egli la ammaestrava. C'è una folla che va da Gesù. Gesù insegna, ammaestra, è un maestro. Viene usato un verbo all'imperfetto, quasi che Gesù fosse con loro in un continuo insegnamento. Non è la formulazione di una dottrina formulata una volta per tutte. Non è un invito a essere militanti di un integralismo religioso. È un insegnamento che assume la dimensione dello sguardo, appunto. Lo sguardo, come è descritto nel titolo di questo commento, che fa risorgere, cioè ci conduce a una vita nuova. Ma non ci viene detto il contenuto del suo insegnamento perché Gesù non chiama come un maestro, non presenta un progetto da eseguire, una causa da seguire. È lui stesso l'insegnamento. E questo ci ammonisce profondamente. Se cerchiamo nel Vangelo una rappresentazione teorica del modo attraverso il quale dobbiamo vivere, non troviamo un protocollo comportamentale. Troviamo l'occasione per essere accolti a una chiamata, a una vocazione che deve sorgere dal nostro cuore. È la vocazione alla vita autentica, che è stare nella sequela di Gesù. non fa un corso di formazione per aspiranti cristiani, non costruisce una scuola religiosa, cammina, va avanti e testimonia. Qui troviamo la differenza radicale tra militanti e testimoni. I militanti spesso si convincono di avere la verità assoluta. Militano, diventano guerrieri, fanno le crociate. Queste sono le forme degli integralismi religiosi, molte delle guerre che hanno ragioni, che affondano le radici sull'egocentrismo, sull'economia e sul dominio. Però cercano giustificazioni anche attraverso presunti ideali, laici o religiosi. Gesù invece ci chiama alla liberazione, al rispetto delle infinite diversità interpretative dell'esistenza, ma ci chiede la disponibilità ad un incontro che avviene testimoniando, non militando, testimoniando la nostra disponibilità ad accogliere il suo invito. Vieni e seguimi. È un passaggio, quello del Vangelo di oggi, che si pone tra la guarigione del paralitico e quel cercare che troveremo nel Vangelo di domani, che riassume in sé l'essenza stessa di una fede che si lascia andare, senza pregiudizi a una chiamata la dimensione dell'amore e della misericordia. Ma leggiamo questo brano del Vangelo. In quel tempo Gesù uscì di nuovo lungo il mare. Tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava loro. Passando vide Levi, il figlio di Elfeo, seduto al banco delle imposti. Levi è un esattore delle tasse, è un pubblicano e gli disse seguimi ed egli si alzò e lo seguirete. L'esattore delle tasse, Levi, si alza e lo segue, non fa domande. Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi discepoli erano molti. Infatti quelli che lo seguivano erano a tavola con molti discepoli e con peccatori. Questo scandalizza. Allora gli iscrivi e i farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e pubblicani, dicevano ai suoi discepoli perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo Gesù disse loro, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. E qui si apre una riflessione necessaria. Nessuno di noi si presuma giusto, santo e privo di peccato. Dunque l'intera umanità è chiamata a seguire Gesù, a cercare, a bussare, a chiedere, senza per questo pretendere di avere la certezza di una dottrina come noi esseri umani immaginiamo sia delle regole precise che ci mettono al riparo dalle nostre tentazioni. No, noi siamo nati nella incertezza, nel peccato, nell'istintualità che ci porta all'aggressività nei confronti del prossimo e che rappresenta la genealogia di ogni guerra. Siamo chiamati a vivere intensamente la dimensione della pacificazione. Dunque facciamoci accogliere dalla chiamata di Gesù e facciamo testimonianza di condivisione. Buona giornata a tutte e a tutti.